Oggi parliamo di Carlos Castaneda e dei sogni lucidi e voglio raccontarvi come io ho incontrato molti anni fa Carlos Castaneda mentre mi trovavo a Goa in India. Era una situazione molto particolare nel senso che avevo un sacco di tempo libero perché appunto stavo trascorrendo un lungo 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 periodo, diversi mesi a Goa. Siamo all'inizio degli anni 90, forse proprio 1990, fine del 1990 e sto trascorrendo appunto una lunghissima vacanza in Asia e all'interno di questa vacanza ho trascorso circa sei mesi a Goa. All'epoca Goa era un posto frequentato da fricchettoni, c'erano moltissimi tedeschi. Io all'epoca abitavo a Berlino quindi ero sulla scia dei party techno dei DJ di Berlino che sono arrivata a Goa e lì appunto avevo un sacco di tempo a disposizione visto che Goa all'epoca la spiaggetta di Calangut dove dove ho abitato diversi mesi non c'era nessuna non c'era nessuna struttura turistica ma c'erano solo le case dei pescatori e infatti abitavo in una delle case dei pescatori che avevo affittato tra l'altro bellissima con fuori la doccia fatta con foglie di banane intrecciate poi ogni sera la signora mi portava il secchio d'acqua calda da mischiare con l'acqua fresca per farmi la doccia e come dicevo lì era pieno di gente che non faceva niente pieno di fancazzisti me inclusa oltre che giocare a racchettoni sulla lunghissima spiaggia di Calangut non c'era molto altro da fare poi ogni tanto si prendeva la bici si andava all'ufficio postale a vedere se erano arrivate lettere alla posta restante ecco qui c'era anche un posto dove si potevano prendere in prestito dei libri lasciati dai viaggiatori e così incontrai carlos castaneda e gli insegnamenti di don kwan e visto che non avevo appunto molto altro da fare mi misi a sperimentare quei sogni lucidi cos'è il sogno lucido è un sogno nel quale tu mentre sogni sei cosciente del fatto che stai sognando quindi c'è tutta una preparazione che devi fare poi se all'interno del sogno e fai cose tipo alza la mano destra e nel sogno alzi la mano destra nel senso che te lo dici fai le prove poi piano piano c'è l'escalation puoi metterti a camminare andare in giro eccetera io ho fatto diversi esperimenti e devo dire che mi ricordo di essere riuscita a sollevare una mano non mi ricordo se adesso sinistra nel sogno poi come succede come succedeva spesso in quel periodo molto nebuloso perso la pazienza mi sono messa a fare altre sono mi ricordo manco cosa mi fossi messa a fare comunque gli insegnamenti di don k di don juan di carlo castaneda e mi sono accorta un libro che all'epoca leggevano tutti e che adesso sta tornando di moda perché mi pare che sia stata fatta un'altra edizione comunque se avete voglia di sperimentare quei sogni lucidi gli insegnamenti di don juan di carlos castaneda grazie